Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Zeman è pronto a sedersi sulla panchina del Pescara. Il Pescara è pronto per lo Zeman Ter, dopo la stagione memorabile del 2011-2012 dei Verratti, immobile e insigne della storica promozione in A e dopo quella meno memorabile, ma comunque intensa, con la retrocessione cinque anni dopo dalla A e il triste esonero nel marzo successivo in B, l'allenatore Boemo, alla tenera età di 75 anni e reduce dall'ottima esperienza con il Foggia lo scorso anno, si prepara un battesimo in bianca-azzurro anche nella terza serie, con un premio promozione da inserire come suo costume nel contratto che la società adriatica ha preparato per lui. Fatale per Colombo, che già in estate aveva visto l'ombra di Zeman alleggiare sulla sua investitura, è stata la sconfitta di Cerignola di ieri, un 1-0 che ha visto la squadra bianca-azzurra non tirare neanche una volta in porta, ma più ancora il rendimento disastroso degli ultimi tre mesi dei bianca-azzurri che nonostante una media retrocessione dal dopo Pescara-Catanzaro del 27 novembre e una serie di sconfitte inspiegabili, sono ancora terzi in classifica. Correrà così ai ripari la società con il presidente Sebastiani che ha giudicato imbarazzante la sconfitta di ieri. Colombo non ha naturalmente tutte le colpe e probabilmente ha il torto di essere stato fin troppo aziendalista nel conciliare le mille istanze di una squadra costruita forse con troppi doppioni e nel gestire il caso Lescano. Ma l'impressione è che la squadra nelle ultime giornate non abbia più nulla di quella che nella prima parte del campionato si era proposta come vera sorpresa positiva del torneo, arrivando a tre punti dal Catanzaro di Vivarini alla vigilia della sfida con i calabresi, ora primi a distanza siderale e davanti al Crotone, ora secondo in classifica senza rivali.